Ciao a tutti da Tattoria Sportiva, ho appena finito la partita a Genoa-Como, ma prima di andare a analizzare la partita volevo ringraziare tutti quelli che sono stati in live con noi a seguire la partita, eravate veramente in tanti, e ringraziare anche chi si è iscritto al canale. Chi volesse farlo adesso può comunque ancora farlo, per l'obiettivo che abbiamo, che sono i 1000 iscritti. Sì, allora andiamo ad analizzare la partita, una partita che il Genoa ha giocato male, il Como ha meritato il pareggio e forse meritava anche qualcosa di più. Il Genoa praticamente ha segnato, ha fatto tre tiri pericolosi, il Genoa è stato due o tre volte, il rigore, il calcio d'angolo, che tra poco ha segnato il calcio d'angolo, la traversa di Coda e l'opportunità di Yeboah. Basta, il Genoa è tutto qua, il Como invece ha avuto molte più occasioni, e quando attaccava ha sempre messo in affanno la difesa del Genoa, che ripeto è una difesa che non so come veramente abbia fatto a subire così pochi gol, perché è veramente una difesa inguardabile. Andiamo però a concentrarci sulla partita, su cosa è successo oggi, sul perché il Genoa non ha vinto oggi. Il Genoa oggi non ha vinto perché, come dico, da fine stagione, da inizio d'anno, il Genoa in panchina ha un allenatore che non è adatto al campionato italiano. Cioè un allenatore che magari in Belgio funziona, ma in Italia non funziona. Cioè bisogna metterselo in testa, questo allenatore in Italia non funziona. Prima lo cambiamo, meglio è, perché con questo in Serie A non ci vai. Non ci vai perché non è un tattico, non sa leggere le partite, sbaglia continuamente i cambi. Ragazzi è veramente disarmante la situazione di Blessing in panchina, è veramente uno scempio. Uno scempio, cioè ma intanto dovrebbero dirgli che non è obbligato a fare i cambi, perché lui comunque i cambi li fa sempre, ma non è obbligato, qualcuno dovrebbe un po' spiegarlo. Secondo, allora, vuoi provare a cambiare il modulo? Anche perché stavi vincendo 1-0, ma non stavi creando tanto, anzi, Como creava di più. Ci sta che nel primo tempo vuoi provare a cambiare il modulo. Ma non fai i cambi che fai. Allora, cioè, va a mettere Yeboah? Va a mettere Yeboah? Ma allora? Ma cosa ci vede Yeboah? Cioè, Yeboah è veramente un giocatore che quest'anno, e già l'anno scorso l'avevamo visto, è in una difficoltà estrema. Non sa stoppare un pallone, non sa saltare, non sa fare niente, niente, niente. Tu vai a mettere Yeboah al posto di Aramu e Yalcina al posto di Gudun, sono comunque invece versa, a fine primo tempo. Allora, tu dimmi con quale assurda idea fai questi cambi, perché, allora, io avrei cambiato, avrei tenuto Aramu, che l'avrei messo a fare il trequartista, ma io avrei già iniziato la partita così, ma vabbè, quelli sono altri dettagli. Aramu lo tenevi in campo, gli facevi fare il trequartista, che è il suo ruolo, e non adatti Gudunson a fare il trequartista perché toglie Aramu. Metto Puskas al posto di Gudunson e gioco con Koda, Puskas, Aramu, che è il gioco che dovrebbe fare. No, noi ci andiamo a complicare la vita perché dobbiamo togliere quello là, mettiamo Yeboah e Yalcina. Yalcina anche oggi è pochissima cosa. E poi, ciliegina sulla torta, al cinquantesimo cos'era, togli Koda, stai vincendo ancora 1-0, eh? Togli Koda e metti Puskas. Beh, beh, chapeau, chapeau, perché penso che nessuno poteva fare meglio di così, veramente chapeau. Chapeau, ti ringrazio, Blessing, per questo cambio e ti ringrazio perché dopo abbiamo preso subito l'1-1. Ed ecco, da quel momento lì, il Gena, a parte il gol annullato giustamente per fuorigioco, non ha più tirato in porta. Se no, con un'azione di Yeboah, non siamo più riusciti ad arrivare vicino alla porta. Una cosa scandalosa. Cioè, io spero che stasera succeda qualcosa per uno spogliatoio del Gena. Perché comunque i cambi che ha fatto sono cambi pericolosi, sono cambi che ti possono mettere contro la squadra. Però io spero che stasera Zangrillo e Blaskerz vadano a bussare alla porta di questo pseudo-allenatore e gli diano il ben servito e si prenda un allenatore normale. Secondo me, penso che abbiano già il nome di chi prendere, spero. Però Blaskerz basta. Blasker basta perché... Ma anche all'inizio della partita si vedeva che era una squadra messa in campo alla Carlona proprio. Tutti in avanti, prendevi i contropiedi. Già al terzo minuto abbiamo preso un contropiede, dopo tre minuti prendi un contropiede. Cioè, proprio una squadra messa malissimo in campo. Cioè, basta, basta. Non è capace, non è adatto a tutto quello che volete. Basta. Toglietemelo dalla faccia da vederlo in panchina. Toglietelo da questa cazzo di panchina. Il problema è che lo so già, perché vedendo l'anno scorso come è andata, so già che succederà che lo continuano, che lo confermano. Poi arriveremo alla prima dopo la sosta, che sbaglierà di nuovo. E a quel punto lo risoneranno, lo manderanno via. Quando potevi mandarlo via prima e avere la settimana di pausa per far sì che l'allenatore nuovo possa incominciare a lavorare su questa squadra. Che non c'è tanto da lavorare su questa squadra, perché è una squadra che... Anche uno che non ci vede sa mettere in campo questa squadra. Solo lui non ci riesce. Lui non ci riesce. Lui è confusione. Confusione totale. Oggi è una confusione impressionante. Oggi è una confusione... Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Cioè, io ho visto le facce di Blaskerz e di Zangrillo, erano tutte un programma. Ma sto qua veramente... Ma sembra quasi che lo faccia apposta. Perché nella conferenza stampa di ieri e dell'altro ieri sembrava che dovesse giocare il giro con Coda e Puskas insieme. Invece la fine ha giocato come al solito, nello stesso modo. Invece che Iagello c'è la Portanova, ma sempre nello stesso identico modo. E non funziona. E non lo riesce a capire. Sono 14-13 giornate che gioca così e sono tutte queste giornate che non capisci che non può giocare così. Cioè, basta, basta, basta. Cioè, toglietelo da sta cazzo di panchina. Mandatelo in Belgio, in qualche squadra in Belgio. Tanto gli aveva trovato una squadra in Belgio. Sto qua qualcosa trova. Ma basta. Basta. È veramente insopportabile. Ma comunque anche l'atteggiamento di Blessing è rispetto a 6-7 giornate fa. È completamente cambiato. Non protesta mai in panchina. Mentre prima protestava in continuazione, se vi ricordate. Da poche indicazioni alla squadra. È veramente, secondo me, in una situazione di difficoltà. o comunque anche lui ha capito che non è adatto e che non... Cioè, ha capito che non ha più i stifori dalla sua parte. Ha capito tante cose, secondo me. Ha incominciato da Krukko, che è, a voltare la schiena alla squadra e alla società. Perché non se ne... Non puoi sbagliare per 14 partite... Per 13 partite in fila. Non puoi. Non puoi. Non puoi. Cazzo. Cioè, veramente uno spreco di tempo questo allenatore. Veramente uno spreco di tempo. Tra l'altro oggi non c'è stato neanche il classico gioco Bani-Dragosi-Dragosi-Bani-Bani-Dragosi-Dragosi-Bani. Quest'oggi proprio... Palla lunga, tutti in attacco e dobbiamo segnare. Per lui segnare vuol dire andare tutti in avanti. Cioè, è quello... Si vede da queste cose che non ha la concezione del calcio. Soprattutto in Italia. Cioè, quando... Quando sei sotto, mette otto attaccati. Manco io a FIFA o a Football Manager. Quando gli dicono non segnano, allora tutti in avanti. Tutti in avanti. E oggi, dopo tre minuti, già un contropiede che per fortuna ti hanno annullato il gol perché ci ha dato di mano. Basta. E ringraziamo Dio, ringraziamo Dio che ha scoperto, che ha finalmente deciso di mettere in porta sempre. Che anche oggi è stato straordinario. Perché se non c'era sempre in queste due partite, prendevamo delle imbargate che... Cioè, forse da un certo punto di vista era meglio, così lo stiluravano e ce lo tagliavano dalle palle. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Come si fa con una squadra così a viaggiare, ad andare soprattutto in casa così male? È veramente... Veramente che non capisci, non riesci a capire. Non riesci a capire neanche Gudmundsson che è sparito completamente dal caso. Non è più... Il Gudmundsson delle prime giornate fa delle cose... Pensa di essere arrivato. Avrà magari delle sirene di qualche squadra straniera che lo sta corteggiando. Perché veramente è disarmante anche la non gioco di Gudmundsson. Veramente, ti fanno passare... Non ti dico la voglia, ma quasi. Perché veramente non... Che poi non è neanche tanto colpa dalla squadra quanto da chi li mette in campo. Perché li mette veramente male. Cioè, il problema del Genoa non è la squadra, ma il problema del Genoa è l'allenatore. Un allenatore non capace. Quindi, se per cortesia, stasera lo mandiamo... Lo facciamo tornare in Germania. E comunque questo è... Questo allenatore è l'errore che ci siamo trascinati dietro di Sports. Sports ha sbagliato il mercato a gennaio l'anno scorso e siamo finiti in Serie B. Sports ha sbagliato metà mercato di questa... Ha sbagliato a detenere Blessing. E lo vediamo. Sports ha fatto metà squadra di questa quest'anno. E si vede. Si vede gli errori di quest'anno. Perché quando è arrivato Tolini la squadra è migliorata. Quando c'era Sports. Ha deciso di partire con Bani e Dragosin. Errore, secondo me, madornale. Veramente un errore. Quindi, abbiamo capito che i tedeschi qua a Genova non funzionano. E per fortuna. E quindi cerchiamo di spedirli ben distanti da Genova, gli allenatori tedeschi. Soprattutto questo qua. E niente. Niente. Ci vediamo... Adesso c'è la sosta. Speriamo che arrivi un nuovo allenatore. Perché questa squadra non può non aver gioco. Non può una squadra così non aver gioco. Cioè, qualcuno deve prendersi le sue responsabilità. E lui è un allenatore che non si prende le responsabilità. È sempre colpa degli altri, del campo, dell'arbitro di qua, di su, di giù. Ah, capitolo arbitro. Un arbitro oggi di quelli che non ci ha capito la mazza dall'inizio alla fine, sia da parte del Genova che da parte del Como. Altra cosa, però, volevo fare i complimenti anche al Como. Perché il Como oggi ha fatto una gran partita. Ha parigiato Cerri. Gli è mancato Cutrone oggi che non ha giocato granché bene. Cerri si è divorato parecchi gol, anche grazie alla bravura di sempre. Perché sempre ha fatto una parata, nel primo tempo, straordinaria su Cerri. E faccio i complimenti al Como. Non concepisco, avendo visto a giocare, come faccio ad essere in quella posizione in classifica. Perché rispetto a tante altre squadre che abbiamo giocato, il Como ci ha messo più in difficoltà che tante altre. Probabilmente siamo anche noi che siamo leggermente in difficoltà e quindi le squadre avversari escono fuori. Però, complimenti al Como, che forse meritava anche qualcosa di più. E niente, ci vediamo alla prossima, sperando magari di avere un allenatore nuovo in panchina. O se no, che qualcuno gli abbia dato una sveglia. O gli abbia messo un tutor di fianco. E niente, ciao a tutti, buona serata e ciao da Trattoria Sportiva.